Siamo con Paolo Meucci che è il responsabile del Centro Mafar da Luce che ci spiega qual è l'approccio al bambino e alla sua famiglia. Il nostro approccio parte dal bisogno primario che è quello riabilitativo terapeutico dei nostri bambini per i quali sono inviati appunto attraverso un sistema di accreditamento con il sistema sanitario nazionale che appunto come primo scopo la parte riabilitativa, ci occupiamo di bambini afferenti alla famiglia di disturbi dello spettro autistico con tutte le diverse sfumature che compongono questo spettro e dobbiamo rispondere chiaramente come primo mandato quello che è il piano terapeutico riabilitativo e come piano terapeutico riabilitativo sappiamo benissimo che essendo uno spettro molto ampio dalle alte ai bassi funzionamenti i bisogni sono sono differenti. Intorno a questi bisogni abbiamo costruito un team di professionisti riprendendo un po' quelle che sono le linee guida nazionali sul trattamento dei disturbi pervasivi dello sviluppo, quindi un team governato coordinato per la parte riabilitativa dalla neuropsichiatra di riferimento, abbiamo appunto nel team multidisciplinare una figura di riferimento qual è la logopedista, il psicomotricista ma anche un educatore che accompagna diciamo in questo percorso intensivo di trattamento medio tre volte a settimana in un percorso appunto psicoeducativo con la consulenza appunto dei terapisti. non ci siamo però fermati qua, diciamo che questo è il punto di partenza che è di otto anni fa, chiaramente appartenendo questo centro a una fondazione, qual è Fondazione Piatti che in sé ha una missione che diciamo vuole far confluire insieme la cura ma anche la presa in carico non solo del bambino nel nostro caso ma anche dell'intero nucleo familiare ci si è spinti oltre, infatti il team si è allargato in questi anni e le progettualità si sono ampliate, abbiamo appunto anche un assistente sociale che cura anche quegli aspetti, cerca di togliere un po' quegli ostacoli che a volte nascono come organizzativi ma poi vincolano anche alcune scelte sanitarie e oltre a tutti questi aspetti diciamo siamo un po' allenati a questa tipologia di risposta all'interno di un quadro di missione dato da Fondazione Piatti ed ora ci troviamo a raccontare di un centro che ha in carico come progetti attivi siamo ad oggi a 98 bambini avendo generato però anche in questi anni e probabilmente anche a seguito in parte anche del periodo di lockdown una lista d'attesa di oltre ad oggi 120 bambini. ecco quindi vi siete trovati di fronte a una domanda forte di questo tipo di assistenza? è una domanda molto forte sì perché chiaramente possiamo immaginare che il disturbo dello spettro autistico porta tutta una serie di problematiche dirette dovute le caratteristiche dei bambini anche indirette che ovviamente la letteratura ci parla anche non solo del bambino autistico ma della famiglia che poi si parla anche di famiglie autistiche non da un punto di vista diagnostico sanitario strettamente sanitario da manuale ma chiaramente da quadri connessi alla loro qualità di vita perché chiaramente a volte il bambino vincola e la risposta al bisogno chiaramente per gli strumenti che la famiglia ha a disposizione ruota intorno alle caratteristiche del proprio figlio. In quello specifico voi che tipo di sostegno date alle famiglie? Il tipo di sostegno ad oggi grazie appunto anche al progetto di ampliamento stiamo parlando di una lettura a 360 gradi del bisogno quindi come dicevo prima la parte nucleare centrale è il trattamento riabilitativo intensivo tre volte a settimana un lavoro psicoeducativo governato da un'equipa multidisciplinare nel tempo abbiamo grazie a delle progettualità sperimentato anche altri tipi di sostegno grazie alle colleghe, alle psicologhe che aiutavano anche il nucleo familiare come dire a rileggere alcune situazioni della vita quotidiana per poter intervenire come citavo prima un ottimo assistente sociale che cerca di comprendere al meglio il bisogno uscendo a volte da quei vincoli strettamente amministrativi e burocratici per trovare una soluzione e adesso anche col progetto di ampliamento anche spinti da questa lista d'attesa stiamo cercando sia di interloquire col pubblico per capire quanto il nostro modello possa ulteriormente ampliarsi inoltre parallelamente stiamo cercando di sviluppare anche un filone di privato solidale che avendo delle regole importanti, etiche, scientifiche sul quale si basa però a volte riesce anche ad essere un po' più agile di quello che può essere un sistema pubblico e quindi ci permette anche di rispondere a quei bisogni emergenti che le famiglie hanno uno su tutti, per fare un esempio, data la localizzazione in cui siamo abbiamo circa il 70% di famiglie che hanno comunque un'origine straniera sia culturale e in alcuni casi anche proprio linguistica e quindi questo aspetto complessifica sia lettura del bisogno sia anche tipologia di risposta quindi sostanzialmente stiamo cercando di tradurre quello che è in poche parole una missione della fondazione che come parte operativa di partecipazione a questo progetto del Centro Mafalda Luce che è a Fondazione Piatti cerca di ritradurre nella risposta al bisogno a 360 gradi a un certo punto per i nostri bimbi e per le nostre famiglie il concetto di ragionare sulla qualità di vita e progetto globale diventa fondamentale dal punto di vista dell'equip medico assistenziale l'esperienza che state facendo qui, che cosa può insegnare? può insegnare che a volte si cerca di rispondere ad un bisogno lavorando sulla performance del bambino e come performance chiaramente intendo quegli apprendimenti che chiaramente in un contesto sociale possono facilitare la vita dei nostri bimbi e di conseguenza anche di chi sta intorno a lui sia in contesti formali che informali, famiglia o scuola sicuramente questo è un aspetto importante che curiamo ovviamente il nucleo del nostro lavoro però sappiamo anche molto bene come determinate performance vengono richieste anche da un ambiente da un ambiente che ha delle regole, che ha delle routine, che si dà anche degli obiettivi ecco, un disturbo come quello connesso alla famiglia di quelli che noi chiamiamo disturbi dello spettro autistico e più in generale magari disturbi del neurosviluppo perché anche quello va considerato diciamo continua a farci riflettere su quella che è un po' anche le priorità per una buona vita e da questo punto di vista diciamo che quindi il lavoro va sì sull'aspetto performante riabilitativo in senso stretto, riabilitativo, abilitativo ma anche tante volte ci troviamo a dover ragionare su quello che è un nuovo equilibrio di vita ogni genitore nella nascita di suo figlio ha un'aspettativa inutile negarlo, l'immagine che io ho di mio figlio a 6, 8, 10, 15 anni quando un genitore si incontra con una diagnosi è come se diventasse un nuovo genitore noi vediamo questa, che sicuramente non è detto che non possa avere una buona vita però sicuramente è come doversi reinventare e non si può pensare che questo passi solo attraverso una migliore o peggiore performance del proprio figlio a seguito di un trattamento riabilitativo noi notiamo chiaramente questo aspetto anche vedendo delle differenze molto importanti quando anche i nostri genitori hanno come bimbo con un disturbo afferente allo spettro come primo genito, secondo genito, quando hanno già avuto magari un altro figlio e ne hanno fatto esperienza e quindi quando si parla di autismo, disturbo del neurosviluppo si parla spesso di atipicità, come se ci fosse un'atipicità scolpita che assolutamente sì, da un punto di vista scientifico abbiamo dei parametri assolutamente, però non parliamo di alieni perché atipicità è qualcosa di diverso da un alieno, no? alieno inteso come qualcosa di diverso e la parte tipica è sempre maggiore della parte atipica anche nei nostri bambini con autismo e quindi è da lì che dobbiamo partire per poter ritrovare un nuovo equilibrio di vita e quindi è da lì che dobbiamo partire